Fidia è stato ben più di un semplice scultore. È stato il simbolo dell'arte greca classica. Artista versatile ed eclettico, ha padroneggiato magistralmente tutte le tecniche artistiche, dalla pittura all'architettura, dalla scultura alla lavorazione di metalli. Alcune delle opere che lo hanno visto come protagonista fanno ora parte del patrimonio Unesco e costituiscono un capitolo importante della nostra tradizione artistica e culturale. Inoltre, riflettono lo spirito dell'epoca in cui sono state create. L'età di Pericle, momento di massimo splendore della polis di Atene. Andiamo a scoprire la vita e le opere d'arte di questo artista, ancora oggi pietra di paragone e modello indiscusso di qualità e stile. Fidia nasce quasi certamente intorno al 490 a.C. ad Atene. Le fonti ci tramandano poco della sua giovinezza. Probabilmente formatosi presso la bottega di Egia, abbandona ben presto lo stile severo per inaugurare quello classico. Viene ricordato soprattutto come supervisore al cantiere del Partenone, importante tempio dedicato alla de'Atena, che ancora oggi svetta sull'acropoli della città. Fidia, dal 447 a.C., collabora con Callicrate e Ictino anche come architetto, ma soprattutto come scultore per realizzare le decorazioni dell'edificio. A lui si devono le metope, i rilievi del fregio continuo, le statue dei frontoni occidentale e orientale e la grandissima statua della de'Atena, in oro e avorio. Pensata per l'acropoli è anche la scultura dell'Apollo Parnopio, che significa sterminatore di cavallette, il cui originale in bronzo, oggi perduto, ha lo scopo di proteggere la città da eventuali disastri naturali. L'artista muore intorno ai 60 anni nella sua città natale. Lo stile di Fidia si distingue per equilibrio, serenità e simmetria, nonché per la naturalezza dei gesti, che caratterizza le sue opere. Pensiamo alla spontaneità con cui Afrodite si appoggia al grembo della madre Dione, parte del complesso scultorio del frontone orientale del Partenone. Pensiamo anche ai dettagli dei bassorilievi del fregio continuo, così come agli altorilievi delle metope. Nessun artista era ancora riuscito a raggiungere tale realismo. È merito anche di Fidia l'ideazione della tecnica del panneggio bagnato, che sfruttando il chiaroscuro delle vesti, permette di mettere in evidenza l'anatomia dei corpi scolpiti. La carriera di Fidia subisce un brusco colpo a causa di un incidente giudiziario che lo vede coinvolto proprio mentre lavora alla statua di Atena. Viene accusato di aver rubato parte dell'oro destinato alla realizzazione del colosso e, fatto ancora più grave, viene accusato di impietà, ossia di sacrilegio, per aver usato immortalare se stesso e Pericle sullo scudo della dea, nella scena dedicata alla battaglia delle Amazzoni. Oggi di questa statua non ci restano che piccole copie in miniatura, ma pensate che per la veste di Atena è stata necessaria una tonnellata di oro. Il costo di una statua così grande e preziosa, infatti, è uguale a quello di una flotta di 200 navi triremi. Grazie a tutti.